Musica Nicola Greco, presidente dell'audace Cerignola, questa sera l'inaugurazione di questa rotatoria che porta il nome della sua società, sicuramente un fatto importante che resterà nella storia. Ma innanzitutto buonasera a tutti, devo dire che per noi è una grande soddisfazione avere una rotonda dedicata non solo alla nostra città ma anche alla nostra società. Siamo tranquilli, siamo sicuri del campionato che stiamo facendo, poi l'audace è un qualcosa che raggruppa città, società, è un qualcosa di unico e io vorrei ringraziare il sindaco per questa meravigliosa rotonda che oggi per noi è un simbolo importante della nostra città. Ecco, perché state facendo qualcosa di importante non soltanto a livello sportivo e calcistico ma anche a livello sociale, ricordiamo tutte le attività dell'audace Cerignola sul fronte della comunicazione, del marketing, della scuola calcio. Come no, ad oggi abbiamo raggiunto un numero di quasi 300 iscritti come scuola calcio e settore giovanile, siamo diventati forse una delle prime società a livello di scuola calcio e di settore giovanile della Puglia. Siamo tranquilli, siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo per la nostra città, soprattutto per il sociale perché fare calcio significa pure dare una mano a tanti piccoli ragazzi che non hanno la possibilità magari di fare calcio e quindi noi interveniamo a 360 gradi e quindi per noi è un grande orgoglio aiutare soprattutto il popolo di Cerignola. Franco Metta, sindaco di Cerignola, era una vostra prerogativa quella di intitolare qualcosa alla società di calcio storica della città, l'audace Cerignola, tutto ciò coincide con un momento magico per la storia calcistica della città, per tutto quello che sta facendo la famiglia greco insomma per il sudadizio giallobruco. Assolutamente, io adesso dicevo copiando un po' quello che è il motto del Barcellona, più che una squadra, l'audace per noi, per i cerignolani, per chi ha vissuto e presume di avere il sangue giallo-azzurro, l'audace è più che una squadra di calcio, il simbolo di questa città. Quando l'audace è stata ai massimi livelli, Cerignola era ai massimi livelli, quando è decaduta la squadra di calcio è decaduta la città e non credo che siano state solo coincidenze. C'è qualcosa che lega questa città a questa squadra e il fatto di intitolare all'audace Cerignola un'opera pubblica che era desiderata da tutta la città, credo che sia significativa del legame fra la città e la propria squadra. Aggiungo che così esprimo anche il mio sentimento di vicinanza, di affetto, di stima e di considerazione per la famiglia greco, per Nicola Greco in particolare, per quello che sta facendo, non per l'audace Cerignola, per la città di Cerignola che comprende l'audace ma è più ampio dell'audace.